Amici di Maria De Filippi Amici di Maria De Filippi, la grande novità per ledizione 2017-18 Amici di Maria De Filippi, il talent show più popolare tra i giovani. Condotto dalla regina di Canale 5, ha il merito di aver scoperto numerosi talenti appartenenti al mondo della vita. Qualche esempio? Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Riccardo Marcuzzo, il vincitore della scorsa edizione del programma che risulta essere al primo posto degli artisti che hanno venduto di più durante questo 2017. Il pubblico è impaziente di vedere le nuove puntate del talent show di Maria. Davide Maggio ha svelato un'importante novità relativa alla nuova edizione di Amici 2017-18, il programma tornerà a essere in diretta. Negli ultimi anni, Amici di Maria De Filippi era registrato come tutti gli altri programmi della moglie di Costanzo. In questo modo, il pubblico aveva la possibilità di conoscere in anteprima il contenuto delle puntate ancora inedite e ciò scatenava un certo malcontento tra il popolo dei social, a cui veniva a mancare l'effetto sorpresa. Al momento, il ritorno in diretta di Amici 2017-18 riguarda soltanto il sabato pomeriggio e non la fase serale del programma. Anche se maggio ipotizza un eventuale ritorno anche del serale in diretta. Al momento è ancora troppo presto per parlare della parte finale, la trasmissione è ancora alla ricerca del cast perfetto per dare inizio allo show. Amici di Maria De Filippi, cosa accadrà nella nuova edizione?. Il ritorno in diretta di Amici di Maria De Filippi sembra un po' richiamare le origini del programma, come fa notare Davide Maggio, quando il talent basava il suo metodo di eliminazione attraverso il televoto del pubblico da casa. Da qualche anno a questa parte, la trasmissione ha cambiato criterio di valutazione, i telespettatori votano soltanto nella puntata finale, mentre una giuria scelta dalla conduttrice si occupa di scegliere quali concorrenti mandare avanti durante il corso del serale. Se Amici 2017-18, a differenza delle ultime edizioni, sarà in diretta, il metodo di valutazione potrebbe nuovamente cambiare, con il ritorno del televoto in tutte le puntate del serale di Amici di Maria De Filippi. Ricordiamo che queste sono soltanto ipotesi, è ancora presto per parlare di questa fase del talent, in quanto gli autori si stanno ancora occupando di selezionare i ragazzi scelti per formare la classe di Amici 2017-18. Oltre alla diretta del sabato pomeriggio, ricordiamo che andrà in onda la fascia quotidiana del programma presentata dal ballerino Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Come per le precedenti edizioni del talent, il daytime andrà in onda su Realtime e non sui canali Mediaset. Come per le precedenti edizioni del talent, in quanto gli autori si stanno ancora occupando di selezionare i ragazzi scelti per formare la classe di Amici.